Cari amici, in questi ultimi due giorni ho affrontato due importanti conferenze, una Perugia e una Roma di terzo livello, con delle condivisioni di contenuti importanti e nuove, di cui vi ragguaglierò nei prossimi podcast. Non ho avuto però il tempo di intervenire sul presunto J'accuse di Carlo Maria Viganò, che ha pubblicato qualche giorno fa. Mi ha, per così dire, bruciato sul tempo Luisella Scrosati, sulla bussola quotidiana, dove dice alcune cose molto giuste, che avrei voluto dire anche io prima, ma poi prendendo delle colossali cantonate su altri elementi. In questo J'accuse Viganò scrive «Non riconosco l'autorità né del tribunale che pretende di giudicarmi, né del suo prefetto, né di chi lo ha nominato, il che significa la sua volontà di non essere in comunione con la Chiesa Cattolica nella sua attuale gerarchia, che per quanto malmessa, per quanto comprensiva di persone obiettivamente non all'altezza e probabilmente anche indegne, rimane l'unica gerarchia esistente e senza la gerarchia non si dà la Chiesa, almeno per come l'ha fondata Gesù Cristo». Luisella Scrosati fa correttamente riferimento al dogma dell'indefettibilità della Chiesa sancito dal Concilio Vaticano I nel 1870, tra l'altro con la Costituzione o con l'enciclica, adesso non mi ricordo esattamente la dicitura, Pastore Ternus, ma Luisella Scrosati prende una grossa cantonata perché un conto è non riconoscere la gerarchia dal 1958 ad oggi e un conto è considerare l'attuale Papa un antipapa. Qual è la differenza? La differenza sta nel tempo perché chi non riconosce nessun Papa valido dal 1958 a oggi, ritenendo che tutti i Papi del Concilio siano decaduti ipso facto per l'adesione agli errori del Concilio, come dicono questi sedevagantisti, cadono in eresia. Perché? Perché se fosse vero che non c'è più nessun Papa valido dal 1958 a oggi, con la morte dell'ultimo cardinale elettore utile a formare un conclave dopo la morte di Pio XII, la Chiesa sarebbe finita. Non ci sarebbe più una gerarchia ecclesiale valida, la Chiesa come istituzione sarebbe terminata e questo andrebbe contro il dogma dell'indifettibilità della Chiesa. Questo è un conto. Non c'entra niente col dire che attualmente Bergoglio è antipapa. Perché non c'entra niente? Perché la gerarchia ecclesiale per eleggere un vero Papa c'è e come? C'è ancora. Io ho spesso parlato della data del 18 agosto 2036 come ultima data utile. Perché? Perché in quella data il cardinale Rainer Maria Velcki, terzo ultimo cardinale più giovane, passerà agli 80 anni e perderà il diritto di voto in conclave. Diciamo che su questa data dei cardinali che scadono siamo ancora un po' in fase di studio con il professor Brunoni, con il professor Corrias e ci stiamo un po' lavorando ancora. Quindi potrei modificare questa data. Comunque ci sono ancora alcuni anni grazie ai quali si può recuperare la situazione, si può riformare un conclave valido ed eleggere un vero pontefice. Quindi una cosa è essere sedevagantisti e sieretici e una cosa è dire che oggi sia in sede vacante. Per esempio Don Minutella dice che attualmente siamo in sede vacante, ma non è sedevagantista e non è eretico. Perché? Perché la situazione può ancora essere recuperata ancora per alcuni anni. Quindi Luisella Scrosati non ha capito niente dalla questione. Infatti Monsignor Viganò è eretico non perché non riconosce Bergoglio, ma perché non riconosce Giovanni Paolo II, tanto che si è fatto riconsacrare Vescovo. Se ti sei fatto è riconsacrare Vescovo, vuol dire che non riconosci valida le elezioni di Giovanni Paolo II, tu stesso dici che la colpa era quella dell'adesione al concilio, quindi tutti i papi postconciliari sono morti, quindi vuol dire che per te la chiesa è finita dopo Pio XII e quindi sei eretico e quindi sei scomunicato, quindi sei fuori dalla chiesa. Tra l'altro Luisella Scrosati non ha capito il gioco che sta facendo Monsignor Viganò. A proposito Luisella, perché non parli dell'istanza che abbiamo depositato in tribunale il 6 giugno scorso per la questione della sede impedita? Lo sai che è un grosso vulnus questo da un punto di vista deontologico? C'è uno che ha pubblicato un libro che ha venduto 20.000 copie, 120 conferenze, 5 traduzioni, 2 premi giornalistici, sta girando tutta Italia, sta facendo una cagnara che non finisce più, presenta un'istanza in tribunale per riconoscimento della nullità dell'abdicazione di Papa Benedetto e voi non ne date neanche un cenno? Come mai? Come mai? Allora, tra l'altro Luisella Scrosati non ha capito quale gioco sta facendo Monsignor Viganò. Vedete bene che qualche giorno fa lo stesso professor Radelli ha riportato l'attenzione di Viganò sull'errore sostanziale, gli ha detto lasci perdere il vizio di consenso, non ci fa niente con questo vizio di consenso perché non ci sono le prove, si concentri sull'errore sostanziale. Ha fatto bene Radelli, manca la rinuncia al munus, errore sostanziale, canon 188, la declarazione nulla invalida. A fine della questione, sempre se la si vuole considerare un atto canonico perché non è nemmeno un atto canonico, è solo una dichiarazione, non ha alcun valore dispositivo. Ma Monsignor Viganò non ci sente da questo orecchio, non ci sente, infatti due giorni fa ho pubblicato una vignetta dicendo ecco la prossima soluzione di Monsignor Viganò per deporre Bergoglio qual è? Abbiamo scoperto che nel 2018 aveva lasciato la macchina in doppia fila, certo perché è tutta una manfrina, è tutta una manfrina, il vizio di consenso non ci fa niente. Adesso è la volta della cum ex apostolatus ufficio di Papa Paolo IV di cui io ho parlato un anno fa col Professor Corrias. Temo che Monsignor Viganò si basi molto sulle ricerche che faccio anche io. Questa bolla, spiega Viganò, stabilisce in perpetua la nullità della nomina o dell'elezione di qualsiasi prelato, che fosse caduto in eresia prima della sua promozione a cardinale o elevazione al romano pontefice. Essa definisce la promozione o elevazione nulla, irrita et inanis, ossia nulla non valida e senza alcun valore. Paolo IV aggiunge che tutti gli atti compiuti da questa persona sono da considerarsi parimenti nulli e che i suoi suddici sono liberati dall'obbedienza nei suoi confronti. In virtù di questa giustificazione Viganò con serenità di coscienza e ritiene che gli errori e l'eresia a cui Bergoglio aderiva prima, durante e dopo la sua elezione e l'intenzione posta nella sua presunta accettazione del papato rendono nulla la sua elevazione al sogno. Una bufala che non finisce più, una bufala che non finisce più perché, come nota giustissimamente Luisella Scrosati, un conto è l'eresia, un conto è essere eretici. L'eresia è un errore, un errore che nega una verità che si deve credere per fede o il dubbio ostinato su di essa. Quindi l'eresia non è solo l'errore relativo a una qualsiasi verità di fede, ma la negazione di quanto la Chiesa ha infallibilmente proposto come dogma rivelato. L'eresia è la negazione del dogma. L'eretico, tra l'altro, non è solo quello che cade in eresia, perché ci sono stati anche dei santi che hanno commesso degli errori, naturalmente in buona fede, eccetera. L'eretico è colui che porta avanti questo errore in modo ostinato, in modo pervicace e pertinace e ne fa una bandiera. Infatti, giustamente, la Luisella Scrosati parla di eretico occulto e eretico manifesto. L'eretico manifesto è quell'eretico che viene individuato come tale dalla Chiesa stessa, è uno, diciamo, che si attiva in modo pubblico per promanare un'eresia, per promanare un errore che va contro le verità che si devono per credere, per fede, i dogmi. Quali sarebbero le eresie di Bergoglio prima di essere eletto presuntamente Papa? Quasi niente, praticamente, perché c'è un qualcosa contenuto in un libro scritto con un rabbino che si chiamava Scorca, in cui lui indulge alcuni errori sull'indefferentismo religioso, eccetera. Ma robetta, roba da educande. Sì, poi c'è l'iscrizione arrota, ridocumentata. Ma sono cosettine che possono essere, diciamo, degli errori da eretico occulto, ma non delle eresie manifeste tali da rendere nulla invalida la sua elezione. Vedete bene che questa cosa della cum ex apostolato di Paolo IV è nient'altro che il solito binario morto su cui vi vuole portare. Viganò conclude la Scrosati dicendo abbracciare la posizione di Viganò comporta necessariamente l'ammissione che la Chiesa cattolica, in quanto società visibile e gerarchicamente ordinata, è di fatto venuta meno, che la Chiesa, nella forma che Gesù Cristo le ha conferito, non è dunque indefettibile, che le porte degli inferi hanno prevalso contro di esse, il che è un'eresia. Errore di Luisella Scrosati, grossolano errore di Luisella Scrosati, perché non è che mettendo in dubbio la validità di Bergoglio si mette in dubbio il dogma dell'indefettibilità della Chiesa. Per quale motivo? Perché la situazione è ancora recuperabile, ci sono ancora dei cardinali che possono eleggere un legittimo pontefice, quindi mettere in discussione l'elezione di Bergoglio che non è affatto un dogma, peraltro sulla base plateale e evidente della non dichiarazione di abdicazione di Benedetto XVI, dell'inesistenza di questa abdicazione o se la vogliamo considerare esistente della sua nullità, visto che l'elezione del Papa non è affatto un dogma, la situazione può essere ancora recuperata. Se fossero finiti i cardinali per eleggere un nuovo legittimo pontefice, i veri cardinali di nomina pre-2013, allora dicendo che la Chiesa è finita si cadebbe nell'eresia. Ma non è questo il momento a cui fa riferimento Viganò. Viganò facendosi riconsagrare Vescovo, rifiutando tutta la Chiesa postconciliare, sta dicendo che Pietro è morto nel 58 senza eredi. Questa è un'eresia, questo comporta la scomunica e quindi Viganò e chi segue Viganò se ne sta andando nel deserto di uno scisma con tutte le conseguenze del caso di cui parleremo. Quindi vedete bene che Luisella Scrosati fa un grossolanissimo errore tra l'eresia dei sede vacantisti, che è un'eresia perché per loro la Chiesa è finita, e chi dice che invece oggi c'è la sede vacante perché Bergoglio non è Papa e questo non è affatto un dogma di fede. Non è affatto un dogma di fede, tant'è che l'Universi Dominici Gregis dice continuamente la valida elezione del Pontefice, la valida rinuncia del Pontefice. Certo, la gerarchia attualmente non è ancora intervenuta, magari ci stanno lavorando sopra, magari aspettano che parta un processo, magari utilizzando proprio l'istanza che il sottoscritto ha depositato il 6 giugno. Perché Luisella Scrosati non ne parli di questa istanza? Anche tu fai il gioco del mainstream, meno male che Cacioli dice che la bussola è sempre dalla parte della verità. E allora, visto che questo fatto dell'istanza è una verità, è un fatto importante che coinvolge tante tantissime persone e che, diciamo, anche a volerla guardare male produce un certo scandalo, una certa inquietudine tra i fedeli, voi ne dovreste parlare. Non lo fate perché? Perché avete qualche interesse nascosto, evidentemente. Non siete intellettualmente onesti, non siete deontologicamente onesti a non parlare di una cosa del genere. E infatti la tua cassazione della posizione di Viganò è erronea, in quanto Viganò è eretico e scismatico perché rifiuta l'ordinazione ricevuta da Giovanni Paolo II, perché rifiuta la Chiesa del Postconcilio, non perché rifiuta Bergoglio come antipapa. Tra l'altro sono d'accordo sul fatto che lui avrebbe dovuto comunque riconoscere l'esistenza del Tribunale, perché se c'è stato un colpo di Stato, questo colpo di Stato non è dichiarato. La gerarchia, l'aspetto burocratico, giuridico è sempre lo stesso, quindi lui doveva andare lì con un plotone di canonisti e farli a pezzi. Su cosa? Sull'errore sostanziale e sulla sede impedita. Non ti piace la sede impedita perché c'hai in odio Papa Benedetto. Va bene, parla almeno dell'errore sostanziale, come giustamente lo sollecitarà da elli. Quindi, questa storia di Paolo IV della Cum Ex Apostolato è qualcosa di non applicabile, è l'ennesimo binario morto, è l'ennesima falsapista sulla quale vi vuole portare Viganò per portarvi a morire nel deserto di uno scisma. Un caro saluto a tutti.